Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Oggi ragazzi faremo un episodio un pochino sciallo, sicuramente più sciallo di quello precedente E siamo nella preversione 5, così, giusto per dirvelo, stanno cacciando un sacco di preversioni E chi lo sa, quando uscirà questa 1.12, penso presto, comunque siamo in una fase, diciamo, di molte preversioni Ragazzi, che cosa andremo a fare oggi? Mentre già esco e mi incammino, anzi mi involo, si può dire tipo involo, non lo so come termine mi piace, quindi diciamolo Quindi partiamo proprio così dal posto e schizziamo verso i portali dell'end evidentemente Andremo nell'end perché una cosa che ancora non ho e che mi piacerebbe trovare sono oggetti o libri Libri che non esistono in realtà, però almeno oggetti con gli incantamenti maledetti Non ne ho un bisogno, cioè non me ne faccio nulla degli incantamenti maledetti Se non lo sapesse... Oddio c'è un creeper non esplodere? È esploso? No, non deturparmi l'ambiente ti prego Stavo dicendo, un incantamento consiste in questa maledizione che non ti fa più togliere l'oggetto che hai addosso ed è maledetto Mentre l'altro incantamento è tipo che se tu muori, quindi perdi l'oggetto, si distrugge per sempre Se non ricordo male, uno è tipo binding qualcosa, no, curse of binding e curse of vanishing, credo Ragazzi, li avevo recensiti nello snapshot e dopo non li ho mai più visti, quindi capitemi E quindi, nonostante lo scorso episodio è stata un'impresa incredibile Ci ho messo tipo due ore, due ore e mezza per far tutto, una roba pazzesca Questo episodio lo faccio molto sciallo perché sto ancora preparando i video Li pre-registro, li pre-carico Per quella che potrebbe essere l'ultima fiera di questo lungo periodo di fiere Che mi sta ammazzando Quindi già da domani, in teoria potrei ripartire a pieno regime con i video Anche se, insomma, non è che mi sono risparmiato così tanto Facciamo solamente così, un episodio più sciallo del solito E per fare ciò, dobbiamo salire nella nostra base, tra virgolette Lo chiamerei più che altro avamposto qui nel land E ci tippiamo, anche direttamente, no, non ce l'ho fatta Ci tippiamo nel portale Remote Gateway Ci buttiamo nel vuoto perché abbiamo le litre e i razzetti Quindi non temiamo nulla Questa città l'abbiamo già visitata Dobbiamo viaggiare, andare lontano e cercare altri end city Alla ricerca, appunto, di questi libri particolari Anche di altri tesori, perché no Poi, ci perderemo? Probabilmente sì Ma vi ricordo che in giro per l'end Sono presenti, diciamo, vari portali di ritorno Ecco, tipo lì ne abbiamo già beccato uno E li trovi perché hanno il raggio del beacon Che ti dicono Ehi, il portale è qui E poi il raggio sparisce Ce n'è anche un altro là Quindi sono in realtà ipercomuni Non l'avevo mai visto Che erano, appunto, così comuni Vabbè, meglio così Che cosa mi aspetto di trovare? Allora, se non erro, per l'appunto Libri con queste maledizioni Non sono ottenibili in vanilla Credo Tra l'altro, guardate, ce n'è già una Perfetto Però vorrei trovare pezzi d'armatura Magari di diamante Sarebbe figo Magari farsi un set di armatura maledetta Perché no? Cioè, sarebbe una figata da fare Ovviamente dovremmo avere molta fortuna A trovare tutta quella roba Nel frattempo Io mi limiterei A scendere nella nave A ripulire anche da Eventuali Ci sono già stato qui? Ci sono già stato? Eh sì, ragazzi Ci sono già stato Manco lo sapevo Pensate un po' Ehm Ok Quindi avevo già esplorato da quest'area Speravo di andare ad esplorare In un'area totalmente nuova Invece Sono andato in un punto dove Già eravamo passati Va bene Quello che sto dicendo È che oltre agli oggetti Vorrei anche trovare Gli shulker Tant'è che ho anche Materiali di crafting Per fare una shulker box Nel caso ci Serva più spazio Ho anche un ender chest Nel caso E volevo semplicemente Qui c'è un'altra Che avrò già visitato È molto vicino all'altro Quindi non lo so Però appunto Vorrei avere materiale Per fare altre shulker box Non si sa mai che cosa Dovremmo farci in futuro Se ci possono servire O meno Tra l'altro qui c'è un bellissimo shulker Quindi in teoria In teoria Io qui non ci sono mai stato E mi ha anche droppato Perfetto Entriamo All'ambicco Con pozioni Salute istantanea Può sempre tornare utile Chigliamo anche lui Ci sono anche altre litra Quindi ce le pigliamo sicuramente Ci sarà anche un'altra testa di drago qui Che interessante come cosa Vediamo Una spada con mending ragazzi Eh sapete che sulle armi Io mending non lo metto Perché voglio che dopo un po' si rompano In modo da cambiarle Ne abbiamo avute tante Con dei nomi Quindi mi affeziono anche a sta cosa Però Ehi La prendiamo intanto Perché non è male come cosa E vediamo qui Protezione Vabbè Questo fa un po' cagare Per il momento lo tiriamo sul ferro Non lo guardo neanche Perché raga Onestamente ne ho fin troppo Di ferro a casa Abbiamo la farm Quindi stiamo bene Così come siamo Vediamo un po' di prendere La testa del drago E poi ci buttiamo Nella end city Sperando di trovare Questi incantesimi maledetti E ok La testa del drago È appena finita nel vuoto Volevo buttarmi Per prenderla in volo Però forse Ho detto Forse è meglio non rischiare Benché io abbia le litra Eh Ok Ragazzi Fa niente Sono stato uno sciocco La prossima volta Lo facciamo Con una protezione sotto In modo che Non cadda giù nel vuoto Probabilmente In quest'area Mannaggia te Mi volevo incastrare Non mi sono incastrato Vabbè Mangiamo E cerchiamo di Ender perlarci Là sotto Perché se no vogliamo troppo E poi diventa un casino Ci diamo questo stronzetto Che ci ha fatto Parecchio fastidio Prendiamo anche il suo guscio E ripuliamo l'area Ragazzi Quanto male mi fanno È meglio rimettere l'armatura qui Raga ho scoperto ora Che tu praticamente I proiettili dallo shulker Li puoi frecciare E li distruggi con le frecce È una cosa fighissima Così non ti colpiscono neanche E Aia Aia Siamo caduti dall'alto Ci diamo anche lui Siete le trasportato A quanto pare sì Va bene Non c'è nessun drop qui sotto Qualche shulker aveva droppato Quindi prendiamoci assolutamente La loro roba Perché Come vi ho detto Infatti lì c'è un guscio Come vi ho detto Vorrei poi fare altre shulker box Più avanti Quindi andiamo qui Facciamo un po' di parkour E ci recuperiamo Questi bellissimi gusci E siamo già a 4 Perfetto Qui che cosa abbiamo Incrociamo le dita Niente ma Maledizione La maledizione Ce l'abbiamo fatta Curse of Vanishing Ragazzi stavo dicendo Non ce l'abbiamo fatta Invece ce l'abbiamo fatta Sul pezzo di ferro Avrei preferito averla Sul diamante Però è figo Vedere l'incantamento Maledetto Per la prima volta Nella serie Figo ragazzi Sono contento Va bene Dai abbiamo trovato Già un pezzo E non so se ne troveremo altri Però cerchiamo di finire Almeno questa end city E di vedere se ce ne sono Altri Se ci sono altri tesori Diciamo così Magari Farebbe comodo Tiparci Direttamente in alto Così da risparmiare un po' di tempo Eh sto volando Di fianco uno shulker Molto simpatico Che mi ha dato All'evitation Ancora per un secondo E boom Cadiamo di sotto Ok Ok Allora Di grosse aree Che possono ospitare Sale del tesoro Io direi che qui Le abbiamo anche finite Così occhio e croce Questa end city Ha già dato Quello che poteva dare Quindi proviamo A svolazzare un attimo In basso Questa è un'area del tesoro Ehm Forse Qua C'è qualcosa Dovrebbe esserci qualcosa Vediamo un po' Eh lo so che c'erano Shulker di fuori Ma l'ho evitato Per il momento No Non c'è assolutamente Nulla qui dentro Quindi Killiamo lui Ci prendiamo la sua Il suo guscio Ma si è tippato Mannaggia E allora Proviamo a scendere di qui E vediamo solamente Se nella parte iniziale C'era qualcosa Ma in teoria No E infatti non c'è niente Ok ragazzi Niente Abbiamo finito Queste end city Ehm Arrivano altri proiettili Quindi direi che è il caso Di scappare E dovrei andare In questa direzione Se non erro Quindi schizziamo subito Con i razzi Ci stanno seguendo Ehm Non più Credo che non possano più Arrivare da noi Quindi ragazzi Svolazziamo E proviamo a cercarne un'altra Da luttare velocemente Un incantamento Maledetto L'abbiamo trovato Sarebbe carino Averne anche un altro Infatti guardate Subito lì Bam Un'altra nave Tra l'altro Quindi possiamo Rifarci con la testa Del drago In teoria In teoria È una cragnata Pazzesca Intanto Ma iniziamo Subito A luttare Tutto quanto Raga Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Siamo entrati Nella Sala del tesoro Di quest'altra nave Abbiamo Una pala Di ferro Mannaggia Con mending Quindi noi ce ne facciamo Un granché Loro Lo prendiamo Volentieri Mending Anche su questi Piedini Di cui non ci facciamo Un granché Ci prendiamo Ovviamente L'elitra E andiamo anche A recuperare La testa del drago Questa volta Cercando di non farla cadere Tra l'altro Come fai a raccoglierla Sicuro di non farla cadere In teoria Basterebbe Mettersi Così Mettere un blocco Sotto E niente La prendi tranquillo Io prima Ho sottovalutato la cosa L'ho fatta cadere Perché sono stupido Non perché sia Così difficile Raccoglierla Quindi ragazzi Questa End City Oddio È tarocchissima Non c'è dentro nulla Qui raga È una di quelle Minute Che non nasconderanno Mai niente Vero Non ci sarà neanche una chest Esatto Zero chest Vabbè Non lamentiamoci Ne abbiamo trovata una subito Quindi Non può andare sempre bene Mettiamola così Ragazzi Vediamo un attimo Nell'intorno Se ne spunta un'altra Perché altrimenti Qui abbiamo trovato Un gateway Per tornare a casa E sarebbe il caduto Di sfruttarlo Perché in realtà L'abbiamo visti Un sacco All'inizio Però dopo Non ne sono più Comparse Direi che in zona Non ci sono altre End City Raga Lì ne vedo un'altra Che potenzialmente Potrebbe essere Molto alta Perché Oddio È gigantesca Questa Ok Qui ci rifacciamo Probabilmente Non è detto Che abbia Molti tesori Però Non sembra male Quindi Intanto Andiamo subito All'interno Ci piombiamo Di cattiveria Uccidiamo Lui Alla svelta Neanche Voglio essere colpito Vai Proviamo Mi colpisce Mi colpisce Mi ha colpito Niente ragazzi È andata così Vai Però Killati Apri E muori Grazie Cosa abbiamo qui Curse of vanishing Sul piccone Raga Abbiamo fatto centone Abbiamo trovato un altro Due armature Di diamante Ok Molto bene E Niente Di che Però Intanto Abbiamo un'altra Elytra Anche Abbiamo altri oggetti Da prendere Io direi Che si potrebbe Si potrebbe Si craftare Al volo Una shulker box Il problema È che io Non ho Messo Non ho portato Una crafting table Quindi non la posso Craftare Sono stato stupido Quindi utilizziamo Per il momento Questa Questa Ender chest Non mi veniva il termine Non so perché Che avevo portato A posto per questa cosa E quindi Mettiamo tutto lì Ragazzi E andiamo a svuotare Il monumento Subito Che non è mai nella vita Un monumento È una end city Perché Sbaglio le cose Non lo so Comunque entriamo Ragazzi Entriamo dall'alto Proprio di cattiveria Lì vedo già delle ceste Io direi che come i gucci Siamo Bella questa Curse of vanishing Ancora però Mending Fire protection Prendi questi E possiamo pure Scappare da qui Perché C'è un inferno Di shulker Lì sotto Ma noi siamo Belli che a posto E possiamo andare A visitare La prossima sala Che contiene oggetti Queste due potrebbero Contenere qualcosa Effettivamente Proviamo a entrarci Eh sì Abbiamo anche un ender chest Qui Quindi entriamoci Che fa comodo Anche vedere un attimo Una cosa Perché io ho trovato Curse of vanishing E curse of vanishing Quindi non ho mai trovato L'altra Ok abbiamo trovato Tre volte Lo stesso incantamento E mai l'altro Prendiamoci anche questa Già che ci siamo Va bene Facciamo Che finiamo Velocemente il giro Lì dentro Potrebbe esserci qualcosa In teoria Vediamo subito Sì è una di quelle sale Da chest Però Avendo poi il tesoro Sopra Non c'è niente Quindi ci rimane Solamente Lì niente Qui abbiamo già guardato Qui dentro Qui dentro C'è Perché c'è un piccone Droppato Che succede Raga ci sono degli oggetti Droppati Ma io non sono mai Passato di qui Perché ci sono degli oggetti Droppati Non ha senso C'è Raga perché Non ho capito Comunque è un piccone Con efficienza E c'erano in giro Delle bandiere Vabbè raga Niente Abbiamo visitato Anche questa Diciamo che Ci è andato Molto bene Tutto sommato La caccia Abbiamo trovato Un sacco di roba Mending Curse Il problema è che Non abbiamo trovato Il secondo Incantamento maledetto E quindi prima o poi Dovremmo fare un'altra ricerca Suppongo Raga abbiamo trovato Un'altra al volo Vediamo Protection Protection Mending Sharpness Gli altri Vanishing Protection Raga non si trova L'altro Mi spiace Non si trova Non so perché Questa cosa Magari non è Nelle end city Magari in un altro Dungeon Però qui non lo abbiamo trovato Raga finalmente un gateway Ma prima ho trovato La end city Più piccola Della vita È davvero minuscola Quindi vediamo al volo Cosa contiene Una pala Commending Diamante Quindi ci prendiamo pure sta roba Ci prendiamo l'oro Ci prendiamo tutto quanto Lascia giù questa E Protezione E curse Vanishing Vanishing Niente da fare Niente da fare L'altro Incantamento Maledetto Non siamo riusciti A trovarlo Non so il motivo Probabilmente Non si trova A questo punto Nelle end city Deve informarmi bene Perché su questo argomento Dopo averli Recessiti Negli snapshot Non mi sono più informato Quindi rimango Nella più completa ignoranza Ora Tipiamoci là dentro Magari Senza felare Ok Ce l'abbiamo fatta Torniamo nel land E da qui Possiamo anche tornare a casa Quindi ragazzi per questa puntata Speciale Dove abbiamo cacciato Gli incantamenti maledetti È tutto Ne abbiamo trovati un sacco Ma di un tipo solo Nel complesso sono comunque soddisfatto E chissà Magari in futuro Potremmo anche provare A cacciare l'altro Quindi se vi piacciono Questi episodi esplorativi Avventurosi Fatemelo sapere Sono molto scialli da fare E ogni tanto Ci sta anche per variare Quindi ragazzi Detto ciò Io vi saluto Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti